Oh, ogni volta che esce underground siamo sempre in attacco, ma ve lo giuro, eh, non è una mia sensazione Vabbè, vediamo un po', ovviamente qua non è che c'è molto da fare, all'inizio un po' di spawn kill, cioè Minchia, stava lanciando, non lo so, boh, occhio, seccato, quella è riuscita a scappare, che culo Io sto conquistando l'obiettivo, quindi posso stare fermo quanto voglio, sono in zona bandiera Col pompa per le quaglie, via Minchia che steccata ha preso sto medico, ovviamente come vi avevo detto nello scorso video, ho registrato di seguito Visto che c'è underground, ne ho approfittato, visto che non esce mai sta mappa Un po' come Rotterdam, da quant'è che non vedete Rotterdam sul mio canale, perché non escono ragazzi Voi fate cerca partita su sfondamento, escono le solite mappe del Pacifico Iwo Jima, Tempesta nel Pacifico, Wake Island, ovviamente anche quella nuova Basta, Rotterdam, Narvik, vabbè che Narvik me la quitterai comunque Uè medico, Narvik non si può più giocare, c'è proprio un campo impraticabile Lo so, anche in testa, è un peccato, però non ci posso fare nulla ragazzi, Narvik è impraticabile Ah, per chi non se ne fosse accorto ho iniziato a usare la dinamite E io dopo un anno di Battlefield 5 ho iniziato ad usare la dinamite E faccio il depensante, me ne frega un cazzo, la uso anche sull'unità di fanteria, visto che lo fanno gli altri E mi dicono, no no no, è proprio così l'assalto, va usato così, e mo lo uso anch'io Vediamo se qualcuno ha qualcosa da ridire Madonna, ancora quel medico seccato Seccato in faccia, ancora lui oh Però almeno ha le palle di venire avanti I suoi colleghi invece stanno indietro, devono salvaguardare il rapporto uccisioni morti E quindi lo ammiro per questo Cazzo Preso in faccia Cosa nostra Ah, chi dà senso, quello che prima mi ha ammazzato Anzi, nella partita precedente Usciava con sta cazzo di carabine M2, dio caro Si può passare, no? Non è una buona zona La granata ragazzi, via! Il medico salta Come ha fatto a non morire quel medico? Granata nella schiena? Nulla si è fatto Vabbè, la mia dinamite fa zula, dai, ho capito Ma beccati sto puffo Come no? Beccati sto puffo Niente, oggi i puffi non fanno danno Seccato Cristian Bo Era indeciso sul cognome C'è uno di là piazzato con l'MG, mi sa, eh Aspetta, aspetta Eccole Madonna, raga, ve lo giuro Non lo so come l'ho ucciso Ho avuto parecchio culo Quello era già in fase di mira inclinato, dio caro Eh, aspetta, aspetta che carica Che lo tira delle steccate Ecco, lo vede Provo a sparargli un colpo di piata Magari gli tolgo il coraggio di mettersi là Vediamo Sempre se non becco il palo Ok, l'ho colpito Ecco qua Ria Raipa Raipala Raipala Andiamo di qua, andiamo di qua Che altro lì sono tutti appostati Rischi di fare molte morti Già non rianima nessuno, poi Come? No, quello non è vero Quello non è vero Ora è vero Capitan Barretz Ok, ha messo là dietro, ha messo là dietro Esplosivo di... Oh, l'ho preso Becati stati... Mamite Occhio, occhio Eccolo qua Eh, la molto va rimbalzato Perché avevo un alleato di lato Non sono riuscito a spostarmi Becati stati, mamite nel muso Mo la uso anch'io così Ve l'ho detto Me ne sbatto il cazzo Come un vero depensante Guarda Guarda che cazzo me ne frega a me di quello che pensano gli altri Meno di zero Guarda questo Capitan Barretz Come cazzo ti sei preso il grado di capitano Se sei un mezza minchia Senza palle Che si mette là nell'angolo Dio caro Ma piuttosto camperati in fondo Cioè non ha senso mettersi là Fai al massimo due o tre kill e poi ti vedono Non è che... Che steccata ha preso da un killer Occhio colpo di Piat Oh No la granata No Via Via ragazzi Madonna mia Come cazzo Sono scappato da lì Non so quanto durerà questo video ragazzi Perché sapete Operation Underground Quando si pusha così Dura veramente poco eh Ma abbiamo gente qua raga Se mi faceva questo spegnevo tutto Ve lo giuro Era quel cecchino mi avrebbe shottato Missato Pazienza Occhio Non so se l'hanno fatto Bello Links Quante volte ho ucciso questo? Allora lanciamo un bel fumogeno qua davanti Così i miei compagni possono attaccare Occhio che magari mi suicido con... Può succedere eh Ho ammazzato qualche nemico con l'attacco fumogeno Quindi Madonna Aveva il pompa mi sa Cazzo Mi sa che lo uccido questo È rimasto là come un... Sì ma sei un pirla eh Questo è andato a rianimarlo Mi sa che ammazzo pure lui no Che culo Però posso lanciare la dinamite io L'ho preso con la dinamite Vado a quanto mi piace fare il depensante Ogni tanto Ogni tanto fa bene alla salute Farlo sempre no? Perché poi ti nascono pure i figli storti Se fai così per sempre Si è levato Ha fatto bene Però ha fatto bene Ma abbiamo gente qua di lato Abbiamo No giuro Non dirò nulla su questa kill Lo giuro Non mi interessa Ha uscito un video veramente corto Però io comunque ve lo voglio proporre Perché è stata una partita Interessante 22 kill e una morte Senza camperare Cioè comunque secondo me È un risultato più che onesto Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate di questa partita Ve l'ho detto Uscirà un po' breve Però magari dai Ve lo posso come video extra Magari un martedì o un giovedì Visto che Probabilmente uscirà corto Saranno 5 minuti di video Però ve lo voglio proporre comunque Fatemi sapere cosa ne pensate Lasciate un like Un commento E nulla Ci vediamo a un prossimo video Un saluto a tutti Impossibile recuperare la tua segnalazione Grazie Sei pagato 5000 euro al mese Per fare il cazzo che ti frega Succede questo Grazie a tutti Grazie a tutti